Mia cara Federica, ma tu sei proprio certa? Assolutamente sì, maestro, certissima. Stia tranquillo. Beh, tanto tranquillo non ci sto proprio. Maestro, lei si deve fidare di me, perché anche quest'anno torniamo una puntata super speciale, il giorno di Natale, alle ore 15. Sì, 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 sì. Che c'è? Il giorno di Natale, alle 15. Io alle 15 sto ancora al primo antipasto caldo. Eh, Antonio, ti tocca anticipare, ti tocca anticipare il pranzo, perché noi dalle ore 15 saremo puntualissimi nelle vostre case, attraverso questo splendido mezzo che è il televisore. E mi raccomando, Canale 10, Rete 8, torna una puntata super bellissima di Fidati di me, speciale Natale. E allora vi aspettiamo con il maestro Lino, Antonio, tanti ospiti, ma soprattutto i protagonisti saranno i bambini. Ci vediamo alle ore 15 il 25 dicembre. sempre su Rete 8. Fidati di me. E io intanto che gli avevo portato il panettone me lo vado a mangiare da solo, così di imbari, offeso. Ma anticipa, anticipa, intanto ci vediamo alle ore 15, puntuali, eh. Vai maestro. Buon Natale. Buon Natale. Buon Natale. Buon Natale. Buon Natale.